paschei se avessi un euro per ogni volta che qualcuno mi ha chiesto di fare un video sulle paschei a questo punto sarei ricco e vivrei alle bahamas ma tanto i video li farei lo stesso perché mi diverto troppo a farli che cosa sono queste benedette paschei di cui tutti quanti parlano beh le paschei sono l'ultimo ritrovato in termini di sicurezza informatica che ci consente di dare l'addio alle nostre password tradizionali ma soprattutto di dare l'addio insieme a loro a tutti quanti i furti di credenziali furti di password e furti di identità ma allora perché ho aspettato tanto per fare questo video sulle paschei come funzionano queste paschei come faccio a implementarle sui miei account beh lo vediamo tra un attimo ti senti pronto iniziamo per capire bene insieme che cosa sono le paschei bisogna andare con ordine e metodo la prima cosa da capire è che esistono due grandi macro categorie di paschei le prime sono basate sull'uso di uno smartphone le seconde invece sull'uso di una chiavetta fido 2 esattamente come quella che ti sto mostrando quali sono le differenze le differenze sono che le prime sono aggirabili e le seconde invece no quindi il consiglio che ti do è quello di procurarti un pendrive fido 2 se non sai quale modello acquistare te ne consiglierò qualcuno sia nella descrizione di questo video sia li metterò sul sito del canale www.gentiluomodigitale.it naturalmente nella sezione hardware ma come funziona una paschei una paschei serve ad abilitare un dispositivo ad accedere ad un account ogni paschei è assolutamente unica al mondo e quindi se anche qualcuno dovesse comprare una paschei uguale a questa qui e dovesse inserirla per cercare di accedere ad un mio account non potrà farla perché solo ed esclusivamente la mia paschei sarà abilitata a fare accedere un nuovo dispositivo a quell'account quindi addio anche ai furti di password perché se anche qualcuno dovesse rubarti la password e dovesse cercare di utilizzarla per accedere da un nuovo dispositivo al tuo account non potrà farlo perché non avrà questo oggetto qui le paschei inoltre sono assolutamente incoppiabili e non c'è assolutamente nessun modo per duplicarle una domanda tipica che mi viene rivolta è come faccio se perdo la mia paschei innanzitutto niente paura perché nel momento in cui tu avrai un dispositivo abilitato l'unica cosa che dovrai fare in caso di furto o smarrimento della paschei oppure anche se si dovesse rompere e tu volessi sostituirla sarà disattivare quella paschei e attivarne una nuova il mio consiglio tuttavia è quello di acquistare almeno due di questi dispositivi e configurarli entrambi uno lo terrai in tasca esattamente come fai con le chiavi della tua macchina e l'altro lo metterai in un cassetto o meglio ancora in cassaforte ma adesso bando alle ciance andiamo ad aprire la nostra paschei e vediamo come si va a configurare eccoci qui la prima cosa da fare sarà configurare il nostro nuovo pendrive direttamente in windows per farlo ci portiamo in basso sul tasto start successivamente apriamo impostazioni apriremo il nostro account locale e andremo a selezionare le opzioni di accesso fatto questo sceglieremo la voce chiave di sicurezza e andremo ad impostare la nostra chiave di sicurezza in modo da gestire l'accesso alle a clicchiamo sul pulsante gestisci e ci viene richiesto di toccare il pulsantino che c'è sulla nostra chiave di sicurezza cosa che vado subito a fare ecco fatto ci viene chiesto a questo punto di cliccare sul pulsante aggiungi e di scegliere un pin lo confermeremo nella riga di sotto e cliccheremo sul pulsante ok ecco fatto possiamo chiudere e la nostra chiave di sicurezza sarà stata impostata su windows chiudiamo le impostazioni e passiamo alla gestione degli account apriamo quindi google chrome e portiamoci su questo indirizzo qui che ti lascio anche naturalmente in descrizione ci verrà richiesto di entrare sul nostro account utilizzando la password e una volta entrati potremo configurare la nostra chiavetta per farlo come detto non utilizzeremo il telefono come ci viene richiesto ma sceglieremo la voce mostra altre opzioni nella voce mostra altre opzioni sceglieremo di utilizzare un token di sicurezza a questo punto veniamo informati che il token deve essere a portata di mano ma non collegato al dispositivo andiamo quindi a disconnette ecco fatto clicchiamo sul pulsante avanti e clicchiamo sul pulsante ok ancora su ok per continuare con la configurazione e ci viene chiesto di reinserire il nostro pendrive ok la chiave è stata inserita e a questo punto ci viene richiesto il pin che avevamo inserito in precedenza quando l'abbiamo configurata su windows clicchiamo su ok e ci viene richiesto di toccare il pulsantino sulla chiave di sicurezza ora possiamo utilizzare la nostra chiave di sicurezza per accedere a google.com clicchiamo su ok chiudiamo la finestra e andiamo a vedere come funziona per mostrarti il funzionamento ho avviato una nuova macchina virtuale e sto cercando di accedere a questo account nel momento in cui cliccherò mi verrà richiesto di utilizzare la paschei per confermare che sono davvero io quindi mi basterà cliccare su continua inserire il pin di sicurezza e toccare infine la mia chiavetta in pochi secondi siamo entrati sul nostro account esiste anche un altro metodo alternativo e probabilmente anche più semplice rispetto a digitare l'indirizzo che ti ho lasciato in descrizione che consiste nel cliccare sull'immagine del nostro account selezionare la voce gestisci il tuo account google successivamente portarsi su sicurezza e scendendo un po più in basso individuare la voce paschei cliccando quindi su di essa scegliere la voce crea una paschei cosa che non ti posso mostrare in questo momento perché dovrei inserire un secondo dispositivo visto che questo è già configurato tutti i restanti passi sono assolutamente identici a quelli che ti ho mostrato se ben ricordi proprio pochi giorni fa dicevo quanto fosse a mio avviso importante cambiare soprattutto in questo periodo frequentemente la password ebbene la notizia del 23 gennaio riportata da red hot cyber dice questo che la madre di tutti i data breach e online e che la bellezza di 26 miliardi di credenziali utenti sono state sottratte e messe pubblicamente a disposizione su internet di chiunque voglia leggerle e tra l'altro queste credenziali appartengono a siti molto noti tra cui twitter linkedin adobe canva e tanti altri ma come se non bastasse anche outlook sempre secondo red hot cyber è nel mirino ed è stato individuato un bug che consente di accedere alle password degli utenti insomma quello che è chiaro è che le password non sono più un sistema affidabile di credenziali e che occorre quanto prima passare alle paschi se non altro per uscire da questo circolo vizioso di cui veramente non se ne può più non ce la faccio più una domanda a questo punto potrebbe sorgere spontanea ed è questa gli account google in particolare tutelati da paschi sono invulnerabili a quel tipo di attacchi di cui abbiamo parlato qualche giorno fa che venivano perpetrati per mezzo del furto di cookies e che erano invulnerabili anche al cambio delle password bene a quanto pare la risposta è affermativa gli account protetti da paschi sono assolutamente sicuri anche in questo caso motivo in più per sbrigarsi a passare alle paschi e veniamo a qualche notizia sul canale la prima è che sono ufficialmente rimasto indietro con i commenti riesco a leggere ogni singolo commento ma la community grazie al cielo è cresciuta tanto e diventa sempre più impegnativo rispondere a tutti naturalmente faccio del mio meglio ma purtroppo il mio tempo è limitato quindi se per caso vedi che al tuo commento non c'è stata risposta assolutamente niente di personale ma semplicemente non sono arrivato fino a quel punto con le mie risposte quindi mi scuso ufficialmente ma ti prometto anche che cercherò sempre di fare del mio meglio e siamo arrivati invece al momento dei ringraziamenti che quest'oggi sono due ma estremamente importanti il primo è per una delle colonne portanti del nostro canale che risponde al nome di luciano noè luciano ha aumentato il livello del suo abbonamento ed è passato ad essere un distinto gentiluomo quindi anche se non ho ancora il cilindro virtualmente mi levo il cappello davanti a te luciano e ti ringrazio molto a nome mio e di tutta quanta la community il secondo ringraziamento del giorno devo ammettere che mi ha lasciato piuttosto stupito perché va al nostro membro della community che risponde al nome di gaspare ferraro che nel caso in cui non lo conoscessi tra le varie cose è uno degli allenatori della nazionale italiana di informatica un membro del cyber security national lab e uno degli organizzatori della famosissima cyber challenge gaspare ti ringrazio di averci fatto questo onore ma suppongo che gli argomenti che trattiamo sul canale al limite possano strapparti un sorriso comunque benvenuto a bordo a nome mio e di tutta quanta la community siamo al terzo ringraziamento non meno importante dei primi due che è quello che come ben sai è rivolto proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo mi taccio ma non prima di averti salutato e dato appuntamento come di consueto alla prossima